Sale, saldi, ecco la nuova parola chiave che da oggi fino al 5 di marzo sarà per quel popolo della carta strisciata. Un nuovo gesto effettivamente che ricorderà l'utilità del buon commercio e del consumatore ben ponderato. Controllate attentamente che l'oggetto rispetta sia il prezzo originario che il nuovo prezzo formulato grazie alla percentuale di sconto. Le cittadelle del commercio si stanno ripopolando nei loro viali per offerte che tutte le volte paiono essere imperdibili. E sia, bidi di bo, carta bianca, fai tu!